Sindaco Luciani c'è l'incognita calcio a Francavilla con un ripescaggio che è molto concreto ma c'è il nodo societario da sciogliere. È venuto fuori il nome di Vincenzo Saraiocco, noto commercialista pescarese, però questa trattativa con l'uscente De Vincentis sembra essere incagliata. Allo Stato qual è la situazione? Allo Stato io mi auguro e spero che oggi sia una giornata fondamentale per il calcio francavillese. Ieri mi sono visto con il Presidente De Vincentis, abbiamo fatto il punto della situazione, io ho manifestato al Presidente la volontà di questa città di partecipare al campionato di Serie D e quindi ho auspicato che qualsiasi soluzione venga presa consenta di presentare la domanda, le fede di usioni, di pagare ciò che c'è da pagare. Ho trovato il Presidente De Vincentis abbastanza sereno in questo, mi ha garantito su questo punto. Le trattative sono diverse, ci sono diversi gruppi che vogliono fare calcio a Francavilla, ora lui sceglierà quello che reputa il migliore anche in base alle sue esigenze ma soprattutto in base alle esigenze del Francavilla Calcio. Io penso che oggi ci sarà fumata bianca, sono fiducioso e quindi in un senso o nell'altro avremo un nuovo Presidente e quindi una società che proverà ad iscriversi al campionato di Serie D. Quindi non hai detto sia Serraiocco il nuovo Presidente del Francavilla? No, una delle possibilità è quella di Vincenzo Serraiocco, il quale ho sentito anche telefonicamente, mi sembra, ieri o l'altro ieri. Lì si è incastrata la trattativa, poi io nei dettagli sinceramente non ci entro, qualche problema è sorto, però diciamo che è ancora in corsa. Oggi si può ancora fare tutto e ci vuole concretezza, entro la giornata di oggi io mi auspico che queste trattative vengano concluse e che quindi ci sia il cambio al vertice della società.